Doppio colpo per il Catanzaro, dopo Sarao e il giorno di Diogo Tavares, come era già stato anticipato, l'ex punta messinese insieme al neo attaccante del Lumezzane andrà a completare il quadro. Profili tanto simili quanto complementari, con caratteristiche che si prestano all'esigenza della squadra, due elementi fondamentali per Mr. R, che avrà così la possibilità di variare anche il modulo di gioco. Ma Preiti non si ferma qui, vorrà e dovrà garantire al tecnico il numero necessario di giocatori per il ritiro, e nel mirino del DS pare esserci Davide Gaetani, classe 95, di proprietà del Lecce. Novità anche tra i pali e in arrivo dal Taranto, Victor De Lucia, classe 96, e dalle ultime indiscrezioni potrebbe aggiungersi al gruppo Joao Francisco, in uscita dal San Bernardo. Il Cosenza, già in fase preparativa per la prossima stagione, con un accordo annuale, ingaggia a titolo definitivo dalla maceratese Emanuele Danna, una lunga carriera quella del centrocampista, iniziata con la maglia del Milan nella massima serie, per poi passerà al Chievo. Presenza importante in cadetteria tra Rezzo, Piacenza e Pisa, come in Lega Pro, alla Corte di Chieti, Juve Stabbia, Pisa, Benevento, Sorrento, Gubbio. Da Vibo Valenza per la CNews24